Qual è il segreto? È la scienza della giovinezza. Ma un segreto non esiste, perché il vero segreto è l'insieme dei segreti. Escono continuamente consigli per mantenersi giovani, un po' sono gli ormoni. Anche io ho scritto due libri proprio sull'equilibrio ormonale, o sono gli ormoni, sono i radicali liberi. Non è una cosa, è l'insieme delle cose, è lo stile di vita, è il controllo che noi possiamo avere sul nostro organismo. E questo non ce lo abbiamo abbastanza, infatti io ho cercato di spiegarlo nel libro. Quando andiamo in auto e si accende la spia rossa, che indica che qualcosa non va, andiamo subito dal meccanico. Non ci mettiamo in viaggio in autostrada per percorrere 500 chilometri. Invece quando il nostro organismo ci dà i segnali di qualcosa che non va, andiamo avanti e aspettiamo. Cioè viviamo nella nostra zona comfort, qualche cosa succederà. Di com'è nata l'idea di scrivere un libro su questo tema? Perché mi sto rendendo conto che nonostante ci siano numerosissimi studi a riguardo, purtroppo la gente continua a stare male. Infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha proprio confermato che l'allungamento della vita non corrisponde assolutamente con il miglioramento dello stile di vita. E allora ho incominciato a cercare nei vari studi, che sono sepolti nelle riviste scientifiche, non vengono mai fatti conoscere al grande pubblico. Io ho fatto una raccolta, ovviamente consigliandomi con il mio grande amico Luc Montagnier, che ha letto il libro e mi ha anche fatto la prefazione, ho raccolto tutti questi ultimi studi che spero possano dare un aiuto concreto a chi vuole veramente vivere più a lungo. Oggi esistono veramente i mezzi. L'invecchiamento si può bloccare, ma non solo, si può anche invertire.